lunedì otto novembre duemila e ventuno entriamo in una settimana dove l'attenzione è rivolta tutta agli stati uniti in particolare al driver principale della settimana l'inflazione a stelle strisce facciamo però prima un passettino indietro sul finire della scorsa settimana abbiamo avuto i dati del mercato del lavoro americano dati che sono risultati in miglioramento la disoccupazione è passata dal 4,8 al 4,6 per cento una soglia strutturale per le economie di mercato con nuovi posti di lavoro pari a 531 mila unità sopra le aspettative dati positivi che vanno a supporto di quella che è stata la decisione della federal reserve la scorsa settimana che ha avviato il tapering quindi il rientro progressivo dalle misure di stimolo monetario stati uniti che tuttora però possono contare ancora su un'ampia liquidità all'interno del mercato non solo relativa alla politica monetaria ma anche quella fiscale negli scorsi giorni è infatti arrivato il via libera al piano alle infrastrutture da oltre mille miliardi di biden che avrà andrà a foraggiare soprattutto quelle che sono eh nuovi investimenti nei trasporti ma anche nella banda larga dicevamo dato principale della settimana mercoledì il dato sull'inflazione indice dei prezzi al consumo americano è atteso in crescita a livello mensile dello 0,6 per cento con un rialzo anno su anno che dovrebbe passare dal 5,4 al 5,8 5,9 per cento se così si confermasse sarebbe uno dei livelli più alti dal mille novecento novanta eh sicuramente come dicevamo un mercato americano quindi sotto i riflettori anche per quelle che sarà poi il riverbero su wall street una wall street che da cinque settimane conclude in territorio positivo solo la scorsa settimana standard impure e nasdaq in crescita rispettivamente del due e del tre per cento se da un lato quindi abbiamo un Joe Biden che prepara il terreno per quelle che saranno le elezioni di midterm dall'altra parte dell'oceano in Cina abbiamo un eh Xi Jinping che si eh prepara al suo terzo mandato tra lunedì e giovedì si riuniranno i principali vertici del partito comunista cinese per decidere se sarà Xi il condottiero dei prossimi cinque anni se in questo modo si attesta nell'olimpo di quelli che sono i principali leader cinesi dopo eh Mao Tse Tung e Xiaoping di questo e di molto altro parleremo nel corso del nostro eh incontro odierno con un ospite che vado immediatamente a presentare e oggi è oggi con noi Alessandro Aspesi Country Head per l'Italia di Columbia Train Idols Investments buongiorno Alessandro buongiorno Gloria grazie per l'invito Alessandro partiamo proprio da quelli che sono i principali dati di questa settimana abbiamo detto attenzione sicuramente al mercato americano ma abbiamo altri dati importanti che ci eh attendono su cosa concentrare l'attenzione e su cosa sono i riflettori ma i riflettori sono decisamente puntati su quello che eh l'America ci confermerà questa settimana in termini di eh andamento del del tasso di inflazione eh come giustamente hai ehm inserito nella tua eh anticipazione eh i dati che eh comunque arrivano dal mercato americano sono dei dati estremamente importanti per quanto riguarda la corporate america con aziende che stanno ancora macinando utili e profitti di altissimo livello un mercato della disoccupazione che è ai minimi storici o fisiologici per un paese sviluppato e soprattutto un governatore della banca centrale eh Jerome Powell che è stato molto chiaro e fermo nella nell'intenzione della banca centrale americana di ridurre il tasso di acquisto dei dei titoli eh obbligazionari americani arrivando quindi a una conclusione eh del di questo programma di supporto ma dall'altra parte ha confermato che eh c'è tantissima eh e viva attenzione della banca centrale americana per quanto riguarda la dinamica dell'inflazione quindi ehm se pensiamo a circa tre settimane fa eh molti operatori specializzati scontavano già eh un paio di rialzi dei tassi di interesse nel corso del 2022 ciò ha provocato anche una un'infiammata del rendimento del tibondo americano che era arrivato in prossimità di uno virgola settanta per cento per il tibondo decennale eh dopodiché questa eh esplicitazione di Powell che comunque la banca centrale viaggerà eh a braccetto con le condizioni eh economiche e macroeconomiche che si verificheranno nel corso delle dei prossimi mesi ha tranquillizzato il mercato ed in effetti abbiamo visto un rendimento del tibondo americano eh rientrare su limiti ragionevoli e soprattutto un rafforzamento del dollaro e quindi una forte fiducia eh degli investitori istituzionali nel nell'operato eh della banca centrale americana. Alessandro poi meriterà un approfondimento a sé proprio il discorso del del dollaro che affronteremo nel corso poi della della puntata. Resterei però sulle politiche monetarie come già stavamo anticipando quindi Stati Uniti che eh si accingono al tapering dall'altro lato tassi di interesse che rimangono stabili e un'inflazione che ancora una volta è stata confermata come temporanea. Dal canto opposto abbiamo dei mercati che hanno risposto ancora una volta con gli acquisti. Cosa possiamo dire di quella che è stata la reazione dei mercati a fronte dei nuovi sviluppi di politica monetaria? Ma se guardiamo per esempio quello che è avvenuto in Europa ci troviamo in una situazione leggermente differente da quella che eh gli Stati Uniti ci hanno eh presentato. Eh a parte il fatto che il mercato europeo è estremamente frammentato ed è molto guidato dalle esportazioni quindi c'è sempre una forte attenzione anche a eh mantenere la competitività dell'euro. Però quello che abbiamo visto è che eh partendo dalla banca di Inghilterra è stata confermata la politica accomodante eh a costo di avere una una sterlina più debole eh nei confronti del delle altre valute soprattutto nei confronti del dollaro ma questo poteva anche eh intuirsi eh dal semplice fatto che eh l'economia inglese è per circa sessanta per cento orientata alle esportazioni e in questo eh periodo eh storico eh anche a seguito di Brexit non può permettersi di vedere il un livello delle sue esportazioni in in contrazione. Per quanto riguarda il mercato invece eh europeo ha parole forse fraintese eh di Christine Lagarde che hanno provocato un'infiammata soprattutto dei titoli periferici quindi mi parlo di Spagna, Italia e Portogallo che hanno visto il proprio rendimento eh volare nei confronti poi del del debito tedesco. Le successive ehm parole hanno fatto capire che se è vero che si arriverà a un termine delle misure eh eccezionali eh a supporto del dello sforzo contro eh la pandemia eh dall'altra parte eh la banca centrale europea è pronta a studiare nuove misure che permettono comunque di mantenere la dinamica dei prezzi eh accomodante e di conseguenza non faccia perdere il treno della della crescita a un'economia che è decisamente eh più orientata alla manifattura e quindi eh deve essere più aperta anche alla alla prospettiva internazionale. Ti proverai Alessandro stiamo già entrando nel tema una domanda che ci arriva da Matteo che ci chiede come differiscono oggi il mercato americano e quello europeo e quali sono i principali driver? Quindi siamo ancora nel confronto tra eh le due economie e due politiche monetarie differenti che comunque però si muovono per così dire a braccetto. Beh questa è una domanda molto molto interessante perché eh se guardiamo l'economia americana o prendiamo l'S&P 500 che è l'indice di riferimento delle aziende americane il sessanta per cento circa dipende dall'economia domestica quindi da quello che succede eh negli Stati Uniti. Precedentemente tu Gloria hai accennato anche a questo eh grandissimo piano fiscale che Biden eh inizierà a a inserire nella propria amministrazione. Questo per esempio è un fattore molto importante soprattutto per quelle aziende di piccola e media capitalizzazione americana che sono molto esposte al al territorio e non è un caso che anche a livello di andamento delle delle aziende chiamiamole small cap internazionali l'America in questo momento sia un settore trainante. L'altra parte del mercato americano ovviamente è legata alla tecnologia è un un tipo di eh economia completamente aperta eh di sviluppo internazionale con aziende che hanno ancora oggi un forte potere sul prezzo e quindi riescono a imporre il prezzo che vogliono per i prodotti e servizi che offrono alla clientela. Quindi diciamo come forza relativa il mercato americano è eh molto posizionato eh sull'economia domestica con delle con le small cap che sono in forte fase di di ripresa e comunque settore tecnologico estremamente importante. Se guardiamo invece il settore europeo ci troviamo nella situazione opposta cioè circa sessanta per cento di quello che viene prodotto in Europa deve avere dei compratori eh esteri è un'azienda più legata alla manifattura eh industriale a settore automobilistico per esempio a settore delle telecomunicazioni eh il settore bancario è molto più frammentato rispetto a quello americano e quindi non abbiamo ancora visto il pieno potenziale eh del del mercato europeo. Diciamo che in un'ottica magari relativa alla semplice valutazione dei mercati l'Europa è leggermente più a buon mercato rispetto agli Stati Uniti però dal nostro punto di vista gli Stati Uniti rimangono pur sempre eh un un leader eh per lo sviluppo futuro eh macroeconomico e ovviamente anche legato ai mercati finanziari. A fronte di questo scenario ti proporrei un'altra domanda che ci arriva da Carlo Alberto che ci chiede come si attrezza un portafoglio al possibile ma incerto trend dei tassi di interesse? Ma questa è un'altra domanda molto molto interessante eh anche perché se pensassimo a un problema di inflazione eh molto importante e e non temporaneo ovviamente la risposta sarebbe quella di andare o di prendere esposizione accanto ai mercati azionari per quei tipi di mercati che eh possono offrire dei rendimenti eh reali positivi quindi il mercato per esempio delle commodities che sono legate all'inflazione o anche acquistare eh titoli legati all'inflazione soprattutto nella parte obbligazionaria. Il nostro caso centrale quindi quello al quale eh attribuiamo più probabilità è comunque ancora uno scenario di inflazione temporanea anche perché non prevediamo a partire dal 2023 ancora dei tassi anche già dal 2022 dei tassi di crescita del prodotto interno lordo così importanti come abbiamo visto nel 2021 e quindi un certo raffreddamento della crescita economica comporterà già eh per definizione anche un rallentamento dell'inflazione. Quindi il paradosso oggi è che se fossimo un investitore completamente razionale ma dico è molto difficile da implementare questo tipo di eh diciamo di comportamento soprattutto per un investitore privato bisognerebbe chiudere gli occhi prendere una buona esposizione sui mercati azionari mantenere la restante parte del portafoglio eh in cash o eh e utilizzarla per andare a mediare il prezzo quando eh e qualora ci fossero delle debolezze di mercato per acquistare ovviamente per mediare il prezzo. Diciamo che per un investitore invece più o meno magari orientato al rischio e più eh orientato a una crescita moderata del capitale comunque con un forte controllo del rischio attualmente un'allocazione in mercati azionari per circa il il 40 per cento potrebbe essere eh interessante con una diversificazione eh anche a livello geografico inserendo per esempio delle aree che sono andate eh non particolarmente bene ma che hanno del valore sottostante come il mercato azionario asiatico o alcuni dei dei paesi eh emergenti per la restante parte di portafoglio invece un'esposizione a magari eh titoli legati al settore del credito eh in un'ottica di investment grade quindi comunque molto solidi e che offrono dei rendimenti leggermente superiori ai titoli eh obbligazionari governativi eh inserirei anche circa un quindici per cento di esposizione ai mercati eh ad alto rendimento ai mercati AID che tendenzialmente hanno eh offrono un rendimento migliore con una una diciamo una liquidità leggermente più bassa rispetto al mercato investment grade ma questo offrirebbe comunque una buona diversificazione di portafoglio senza avere dei rischi particolarmente eh alti. Alessandro mi eh legherei ancora un attimo a eh diciamo quello che era la differenza che che dicevamo prima tra Europa e Stati Uniti in particolare per un qualcosa che hai citato tu ovvero la forza relativa e la declinerei in ambito valutario quindi stiamo vedendo un dollaro in fase sempre più di apprezzamento abbiamo un euro dollaro che ha raggiunto uno quindici cinquantasei quindi eh sempre più depauperato diciamo così la eh valuta unica rispetto al biglietto verde cosa possiamo dire di questo incremento questa forza del dollaro americano e quali implicazioni ha questo sui mercati? Ma eh i mercati ovviamente hanno scontato una politica monetaria già chiara e eh definita per quanto riguarda il mercato americano e di conseguenza il dollaro come dicevo prima è stato identificato sia come eh modo per esporsi all'economia internazionale trainante e soprattutto anche una valuta chiamiamola eh rifugia solida eh per i prossimi mesi. La cosa è differente eh per le l'Europa eh in quanto l'Europa è in una fase eh diciamo meno eh pronunciata rispetto agli Stati Uniti a livello di decisioni della banca centrale europea e di conseguenza sconta questa impasso o questa eh maggiore incertezza dovuta a dei dati non ancora chiari con eh una una perdita dei valori d'acquisto nei confronti del del dollaro. Consideriamo anche che ehm in questo momento abbiamo anche una una forte pressione sui prezzi per esempio delle materie prime che comunque sono ancora molto sostenute eh vicine ai valori massimi degli ultimi cinque anni e quindi qui dipenderà molto anche da come andrà l'andamento delle delle scorte per quanto riguarda soprattutto gli Stati Uniti che sono uno dei paesi più consumatori eh di riserve energetiche. Qualora ci fossero dei dati dove le scorte eh sono comunque sotto controllo è probabile anche una leggera eh ritracciamento del mercato eh dell'oil del petrolio e di conseguenza un ulteriore rafforzamento del dollaro in quanto sono come come sappiamo eh negativamente correlati quindi tanto più è forte il il dollaro eh eh tanto più eh ha ha grandissime potenzialità di di apprezzamento il petrolio e viceversa. E la stessa cosa la stiamo vedendo anche con con l'oro eh tanto più ci sono aspettative di di inflazione tanto più l'oro tenderà ad avere un un apprezzamento dei propri valori tanto più la situazione prevede una crescita moderata dei tassi di interesse tanto più l'oro come bene rifugio non diventerà interessante per gli investimenti finanziari. Quindi eh in questo momento in effetti il dollaro è molto molto forte eh ma è più dovuto a un riconoscimento dei mercati nella nella capacità della banca centrale americana rispetto ad altre variabili come ho detto precedentemente cioè il petrolio o l'oro. Alessandro restando sull'oro è arrivata anche in questo caso una una domanda secondo me interessante da trattare. Susanna ci chiede quali sono le ragioni dietro il recente rialzo dell'oro e perché ha ricominciato a salire proprio ora. Breve inciso abbiamo visto durante tutto il mese di ottobre una quotazione dell'oro che non riusciva a superare il livello dei mille ottocento dollari l'oncia siamo riusciti in appena tre sedute a superarle arrivare quasi a mille ottocento venti quindi diciamo che abbiamo superato anche quella soglia psicologica di mille ottocento dollari l'oncia. Perché rialzo dell'oro e cosa succede sui mercati? C'è un timore che si sta acquendo? Allora l'oro ha tre driver per quanto riguarda l'andamento delle valutazioni o una forte debolezza del del dollaro e di conseguenza diciamo un bene rifugio che riesca a prendere posizione nei confronti dell'oro delle tensioni geopolitiche importanti soprattutto per esempio nel Medio Oriente oppure la terza ipotesi è quella che dicevo prima cioè io utilizzo l'oro come un bene reale che mi possa proteggere dalla perdita del potere d'acquisto dovuto a una forte inflazione. Direi che delle tre ipotesi quella più interessante al momento è proprio quella di esposizione all'oro come maniera naturale per conservare il potere di acquisto qualora l'inflazione dovesse salire in maniera importante. Ripeto come anche giustamente hai segnalato tu Gloria un andamento da così importante dove a ottobre sembrava che nessuno volesse considerare l'oro come bene reale rifugio a come abbiamo visto oggi con questo forte incremento è più un'ottica speculativa rispetto a un'ottica legata a dei fondamentali chiari di lungo periodo. Alessandro ti faccio una domanda un pochino più generale su il tema Cina ci stanno arrivando più di una domanda che chiedono quali sono le prospettive anche in questo caso i driver da tenere sotto osservazione in particolare sul posizionamento sul mercato cinese cosa possiamo dire in generale di quelle che sono le principali leve che stanno muovendo il mercato asiatico in particolare quello di Pichino? Allora l'economia cinese è un'economia comunque pianificata e quindi non dobbiamo farci trarre l'inganno da quello che i vertici politici ed economici cinesi hanno fatto nei confronti di alcuni settori che effettivamente stavano andando un po' fuori dalla traiettoria voluta dal piano quinquennale di Xi Jinping e quindi mi riferisco soprattutto al settore tecnologico e al settore immobiliare rispetto a quello che potremmo considerare noi nel nostro mondo occidentale. L'economia cinese sta crescendo ancora dei tassi doppi rispetto alla media del tasso di crescita internazionale del prodotto interno rordo e questo nessuno lo considera ma è un dato estremamente importante e in più la politica dall'alto dei vertici cinesi cerca proprio di limare quelli che sono delle potenziali rischi di disuguaglianze per offrire una crescita diciamo più diversificata per quanto riguarda la propria popolazione. Quindi da una parte sono intervenuti nell'ambito di internet e della tecnologia, dall'altra parte hanno cercato di andare a intervenire nel settore immobiliare che aveva esposto molte aziende per esempio a leva, cioè erano altamente indebitati per poter riuscire a sviluppare nuove opportunità nel settore immobiliare. Ha ovviamente una forte impronta anche di sviluppo dei consumi domestici, cioè con questa transizione da un'economia puramente legata alle esportazioni a un'economia che cresce per il proprio mercato interno. Queste sono delle manovre che occorre considerare non in un'ottica temporale di un trimestre ma in un'ottica temporale di almeno un piano di 3-5 anni. Quindi quello che sta facendo in questo momento il governo cinese è proprio quello di andare a stabilizzare e diversificare al meglio la crescita cinese senza avere dei settori che crescono in eccesso rispetto ad altri. È chiaro che molti consideravano i mercati asiatici e quello cinese in particolare come la scommessa più importante per il 2021, questo non è venuto proprio per il fatto che non è un'economia completamente libera come altri tipi di mercato e quindi il governo quando interviene interviene in maniera decisamente pesante. L'altro aspetto però della medaglia è quello che molto probabilmente non ci troveremo di fronte a delle situazioni simili a Lehman Brothers che abbiamo visto all'inizio della grande crisi finanziaria, quindi casi anche come Evergrande, via dicendo, saranno dei casi che verranno ovviamente pilotati da parte del governo cinese. Quindi in un'ottica di medio e lungo periodo il mercato cinese e i mercati ovviamente asiatici limitrofi sono un'opportunità d'acquisto interessante. Come ho detto precedentemente abbiamo ripreso esposizione sui mercati asiatici all'interno dei nostri portafogli bilanciati perché in questo momento offrono ovviamente un valore decisamente interessante, perlomeno in termini relativi rispetto ad altri mercati che sono molto più cari. Ricordiamo tra le altre cose oltretutto crescita dell'export cinese proprio nella giornata di domenica più 27% nell'ultimo mese, indice di prezzo alla produzione che continua a salire e anche la Cina che adesso inizia un pochino a fare i conti su quella che è il rialzo dell'inflazione in particolare nell'ambito dei beni alimentari. Infatti sarà interessante magari anche a proposito vedere quelli che saranno gli sviluppi dei prossimi mesi. Sempre una Cina che come gli altri paesi a livello internazionale si sta impegnando in uno di quelli che sono i temi più importanti del momento, tema sostenibilità e cambiamento climatico seppur con un orizzonte un po' più spostato in avanti rispetto a quello delle economie occidentali. Stando sul tema sostenibilità Alessandro ti chiederei un commento a quelli che sono alcuni degli eventi che stiamo vivendo proprio in questi giorni dopo il G20 di Roma e la COP26 di Glasgow. Quindi tema della sostenibilità cosa possiamo dire e soprattutto quali sono secondo te e secondo voi i temi di investimento più importanti in ambito sostenibilità? Guarda Gloria magari ti posso dare qualche esempio su alcuni temi che stiamo percorrendo come scelte di investimento soprattutto legate all'impatto della sostenibilità. Un tema sul quale stiamo facendo molta attenzione è per esempio tutto il tema legato al settore tessile, al settore della moda. Sembra una banalità ma il settore della moda inquina in termini di emissioni di anidride carbonica di più di tutto il settore del trasporto aereo e nevale messi insieme. Oltretutto per esempio il settore della moda ha vissuto nell'ultimo decennio quella che viene chiamata il fast fashion cioè l'acquisto di capi di abbigliamento che costano poco che sono legati alla moda e poi la gente si dimentica o butta via. Oggi meno dell'1% di tutto ciò che riguarda il settore dell'avigliamento viene riciclato e quindi è un aspetto decisamente importante sul quale noi stiamo pagando molta attenzione. Faccio degli esempi ci sono già alcune marche come Nike che stanno ricreando dei servizi per esempio per la risuolatura delle scarpe quindi il teenager ha il suo modello super chic e super di moda ma avrà la possibilità di risuolare la propria scarpa senza senza buttarla via. Oppure stanno nascendo tantissime piattaforme per lo scambio di capi di seconda mano. Questo ha un effetto che in termini di diciamo prodotto interno lordo è importantissimo. Ci sono circa 100 miliardi di capi di abbigliamento all'anno che vengono prodotti quindi immaginate quello che potrebbe essere l'identificazione di leader che riescono a pianificare piattaforme di seconda mano o di rigenerazione del settore dell'avigliamento e quanti miliardi di dollari ci sono in questo tipo di ambito. Un altro aspetto interessante per esempio è relativo al settore dei combustibili. Il settore dei combustibili sia il trasporto aereo che il trasporto navale hanno dei piani ambiziosi per arrivare entro il 2030 a una grande percentuale di carburanti ecosostenibili all'interno di quanto viene consumato da aerei e da navi. Quindi il settore per esempio dei carburanti sostenibili è un settore sul quale siamo molto concentrati. Il settore per esempio legato anche alla ripresa dell'efficientamento dei settori immobiliari che sono una delle fonti più importanti di inquinamento soprattutto per quanto riguarda le grandi città quindi tutte le aziende legate al settore della refrigerazione piuttosto che del riscaldamento dell'isolamento termico. Questi sono tutti aspetti che stiamo considerando all'interno dei nostri portafogli. Non dimentichiamoci poi che un altro tema molto molto importante è quello relativo al settore finanziario. Noi sappiamo che le banche sono molto legate per esempio al finanziamento del settore energetico. Quasi il 15 per cento dei finanziamenti delle banche sono legati a settori altamente inquinanti. Quello che sta emergendo da queste discussioni e soprattutto dalla maggiore attenzione alla sostenibilità è proprio quella che molto probabilmente per il futuro anche le banche dovranno iniziare a diversificare le proprie fonti di reddito dovute ai finanziamenti andando a penalizzare quei settori e quelle aziende che sono altamente inquinanti. Se non dovessero fare questo scatterebbero delle penalità che andrebbero ovviamente a impattare i requisiti di patrimonialità delle banche. Quindi anche in quest'ambito ci sono degli aspetti particolarmente importanti che stiamo considerando a livello del settore finanziario. Questi sono quattro temi sui quali penso che ci possano essere delle importanti opportunità soprattutto nell'ottica che tu precedentemente citavi che è proprio quella di chi riesce a cogliere al meglio questa grandissima ed epocale opportunità di andare a ridurre l'impronta del carbonio nelle nostre vite quotidiane. Alessandro, andrei a concludere con le ultime domande. Una che ci arriva da David si lega proprio un po' a delle tematiche che abbiamo già anticipato. David ci chiede quali sono secondo lei i settori più interessanti quindi su cui puntare. Direi Alessandro che vale la pena magari fare un piccolo recap di quelli che abbiamo già citato. Allora direi rimane sempre importante il settore tecnologico. Uno perché permette di ridurre l'inquinamento. Due perché permette di aumentare la produttività. Tre perché nessuno sa come andrà a finire la terza o la quarta ondata pandemica e quindi quanto sarà importante comunque rimanere connessi al mondo reale. Il settore della salute è un altro settore decisamente importante. Ci sono dei passi epocali che stiamo facendo anche nella cura del covid e soprattutto il covid secondo noi sarà la prima delle potenziali nuove e negative notizie che potranno arrivare da un mondo sempre più interconnesso. Quindi è un settore sul quale siamo posizionati. Settore industriale. Come dicevo prima aziende che stanno rimodulando il proprio processo produttivo per ridurre il consumo dell'acqua o per la produzione che permetta di efficientare al meglio il consumo energetico. Questo è un altro settore sul quale siamo particolarmente esposti. Dall'altra parte invece settori sui quali non pensiamo ci possa essere attualmente di grandissimo valore sono tutti quei settori legati a delle tematiche come il controllo sui prezzi. Quindi il settore per esempio legato alle utilities non è particolarmente interessante al momento perché sono più che altre decisioni governative che vanno a impattare i flussi di cassa futuri di queste aziende piuttosto che delle dinamiche macroeconomiche. Oppure alcuni settori come dicevo prima come quello delle banche commerciali dove le banche commerciali non sono in grado di diversificare al meglio il proprio tipo di attività sono dei diciamo dei temi non particolarmente interessanti da un punto di vista finanziario. Quindi diciamo se dovessi riassumere tutti quei settori legati ad una crescita di qualità a scapito invece di settori magari molto attraenti dal punto di vista delle valutazioni ma che non hanno dei fondamentali buoni per il prossimo futuro. Questo è in piccole dosi quello che pensiamo a livello di esposizioni settoriali per i prossimi mesi. Alessandro veramente in 30 secondi ti pongo l'ultima domanda. Valentina ci chiede vede qualche bolla particolare in giro sui mercati prossima all'esplosione? Abbiamo parlato di alcune aree di mercato che si sono apprezzate molto. Cosa possiamo dire di questo rischio di un sovrapprezzo degli asset sui mercati? Allora anche questo è un tema molto interessante. Ci sono dei settori che effettivamente hanno visto una crescita a tre cifre dei volumi d'affari o perlomeno delle quotazioni di mercato. Alcuni settori per esempio come quelli legati all'idrogeno sono dei settori che hanno visto delle aziende correre al 500-600% negli ultimi tre anni con la forte aspettativa che l'idrogeno potrà diventare un'ulteriore fonte di energetica utilizzabile. Quelli sono secondo noi dei temi importanti nel medio e lungo periodo ma molto rischiosi da prendere come scelta immediata da parte di un investitore soprattutto privato. Ci sono poi altri settori come per esempio settori altamente ciclici dove buona parte dei flussi di investimento sono andati ma più che altro per aziende che costavano poco sul mercato piuttosto che invece aziende che avevano un valore intrinseco interessante. Quindi alcune aziende per esempio legate al settore del trasporto sono state sopravvalutate, alcune aziende legate all'industria pesante hanno corso troppo rispetto a quello che era il loro valore intrinseco. Diciamo che se un settore o un'azienda vale poco sul mercato ha una ragione quindi difficilmente rimane a basso valore se c'è un valore intrinseco importante. Con quello che abbiamo visto durante la rotazione settoriale soprattutto di fine del 2020 e inizio del 2021 questi sono temi che bisogna affrontare con calma. È molto meglio scegliere delle aziende che crescono bene in maniera costante nel medio e lungo periodo piuttosto che aziende che fanno uno sprint ma poi non hanno capacità di correre una maratona. Quindi direi sono settori che in questo momento sono andati molto bene però a settori particolarmente ciclici starei attento per il prossimo futuro. Diamo intanto l'apertura di lunedì dei mercati, un'apertura frammentata, DAX tedesco meno 005%, Fuzzi cento inglese più 003%, Cacaran francese più 018%, Ibex di Madrid più 025%, Fuzzi Mib più 010%. Io ringrazio Alessandro Aspesi di Columbia 3 Needles Investments per tutti gli approfondimenti di oggi e per tutti i temi che siamo andati a toccare. Grazie Alessandro. Grazie, buona giornata a tutti. Buona settimana a tutti. E a tutti voi buon inizio di settimana e come sempre l'appuntamento con Weekly Bell ogni lunedì mattina alle 8.30. Grazie, arrivederci. Grazie.